Musica 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 Bellissimo 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 La cicoria Un turino Musica Musica Quando viene Lucas? Adesso Ciao Mi sono in bagnato Mi sono in bagnato Dai Ten la testa del piccolo Lucas Te faccio una Musica 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 Dezullando Ragazzi In direttamente 次 No che c'è qua? non c'è, non c'è non c'è Lucas, non c'è stai dai, aspetta io voglio vedere la tua reazione quando la faccio usci vedete occhi stai occhi stai occhi stai occhi Miri cosa? stai 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 guarda stai 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 esa stai 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 u andiamo? si che bello è un bambolotto che carino è un bambino no non 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 si si wow che bello hai visto wow avi hai visto hai visto la sorpresa Lucas Lucas Vini che hai fatto questi palloncini? ha fatto qualcuno ha fatto qualcuno ha fatto qualcuno che hai visto così come bambola non 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 può così è carino ecco così ok wow che carino vini ho paura ho paura che cade vini vini teo ti guarda cosmi cosmi basta mamma mia palloncino se lo metto di la poi non prendo più mamma mia quanti capelli ho già capito che avrà la frangia come Matteo si spingi l'ettino qua così la mettiamo sì mamma non mi ricordi che quando mi usci mi fai una vacanza perché ti sei stancata questo è il nostro di Emilia e Manuela ha fatto tanto si è stancata da mi usci mi usci mi usci mi usci mi usci che carino ma questo è il ciuccio di mattina ma questo è il ciuccio che mi hanno dato in ospedale che è il carine come le pastime che carino queste le ocche queste le occhi si adesso continua a dormire così andiamo a mangiare spingi io? si spingo spingo io? si ha paura hai paura? io voglio farci la mano allora si vedi qua pam pam e quindi tu gli dai i latte? li dai i latte? si si mi piace la mano? porto porto tant te auguri a te 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 Sì! Guarda, sono una carta. Ecco. Ti sono rotto un dento. No. Sono parli di zucchero. Ma sei sicura? Perché questo è plastico, sembra. Non ha il gusto. Per me ne sono qua passate. Non la mangio. Questo è per Lucasino. Cosa. Cosa. Cosa.